Ciao a tutti, oggi andiamo a presentare un temperino elettronico che funziona anche a batterie con 4 stilo e sia USB Adesso vi faccio vedere, qui va collegato a USB, eccolo qua Qua abbiamo due buchi, dipende dai matite, una più grossa e una più piccola E qua abbiamo il raccoglitore, io mi diverto a fare i mandala, vedete qua, ne ho appena iniziato un altro, un passatempo Adesso vi faccio vedere come fa la punta, basta cliccare un attimino, schiacciare, prendo il giacfermo Eccolo qua, vedete che bella punta, bellissimo Diciamo che è comodissimo questo temperino, ok, ciao a tutti, alla prossima